Torna alla vittoria il Cesena che consolida così la propria posizione al comando della graduatoria della serie di Girone F. All'oro gestadium alla squadra dei mister Beppe Angelini è costretta subito a inseguire Lisernia che alla terzo spaventa i bianconeri trovando il vantaggio competiti. Incursione dell'attaccante ospite che fulmina gli ardi dal limite dell'area con una bordata che non ammette repliche. La reazione dei padroni di casa è affidata a un colpo di testa out di Ricciardo e una conclusione fuori misura di campagna prima di trovare il pareggio al 32esimo. L'esecuzione su punizione di Danilo Alessandro è perfetta e Tano nulla può con la palla che accarezza l'incrocio dei pali. 8 minuti più tardi è già sorpasso, il numero 10 è scatenato e serve un assist pregevole a Valeri che l'esterno capitalizza con un piazzato vincente sul palo più lontano. Nella ripresa Tano è strepitoso a dire ancora di no ad un Alessandro perfettamente assistito da Ricciardo, ma la scatenata punta bianconera si rifarà di lì a poco, guadagnandosi con un tribbling strepitoso un penalty sacrosanto, complice l'intervento di Frabotta. Dal dischetto si presenta sempre lui, Danilo Alessandro che fredda Tano, regalandosi così una doppietta personale. Prima del triplice fischio c'è tempo per assistere anche al gran piazzato di Routiens che esalta i riflessi del portiere dell'Isernia. Finisce così 3-1 per un Cesena che conferma il più 5 in classifica ai danni del Matelica.